Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi proveremo insieme i nuovissimi L'Oreal Le Macaron, non so quanto siano nuovi ma per me sono nuovi, e questi qui mi sono stati gentilmente inviati da L'Oreal, quindi non li ho acquistati io, ma questo video non è in alcun modo sponsorizzato, il brand non mi ha chiesto di fare questo video, ma ho visto che c'è abbastanza interesse in questi rossetti e ho deciso di provarli insieme a voi. Farò tutti gli swatches di ogni singolo colore così potete vederli indossati, dopodiché ne sceglierò uno da tenere su tutto il giorno e vedremo come arriva a fine giornata. Quindi se siete nuovi qui mi piacerebbe tantissimo avervi iscritti al mio canale, mi farebbe molto piacere avervi parte della mia YouTube family e senza alcun dubbio direi di cominciare. Dovrebbero avere un finish oltre opaco, tenuta impeccabile, fragranza irresistibile, questo è quello che dice la confezione. Il numero 818 è questo qui e si chiama Dose of Rose. Ok, questo qui è il primo colore, non è uno dei miei preferiti, non mi vedo indossare questo colore troppo spesso, non so perché ma su di me mi sembro quasi un po' malata a dirvi la verità. Il secondo colore sarebbe il numero 820 Praline de Paris, credo si chiami, ma lo terrò per ultimo perché è quello che voglio indossare per tutto il giorno. Quindi passiamo al numero 826 che è Mademoiselle Mango, che è questo qui che tra tutti è il mio colore preferito, ma è quello che trovo leggermente più difficile da applicare. Tenete presente che non li sto applicando assolutamente in modo preciso, voglio solo farvi vedere i colori. Tra tutti è quello che trovo che sia un po' più a macchie rispetto agli altri, perché si accumula un po' di più verso il contorno delle labbra e sta un po' meno denso al centro. Ma il colore è assolutamente stupendo. È questo rosso leggermente aranciato, veramente, veramente bellissimo. Se hanno una buona durata penso che questo colore lo utilizzerò veramente molto spesso. Il prossimo colore è il numero 828 e si chiama Framboise Frenzy, credo. Comunque, numero 828. Allora, già così se li fate asciugare un po' sono abbastanza difficili da rimuovere, che è segno di lunga durata solitamente, però vediamo. Quindi se per esempio li indossate e cambiate subito idea potete toglierli tranquillamente e riapplicarli, ma se aspettate qualche minuto diventa un po' più difficile. Ora passiamo al numero 832 che è Strawberry Savage, che è questo qui, anche questo è molto carino. Poi abbiamo il numero 838 che è Berry Cherie e anche questo mi sembra molto bello. Di nuovo, non fate troppo a casa l'applicazione. Comunque, anche questo molto carino. E l'ultimissimo, come vi dicevo, il numero 820 che si chiama Praline de Paris ed è quello che voglio tenere tutto il giorno, che è questo qui. E questo qui è l'ultimissimo colore che è anche quello che terrò su tutto il giorno. E allora, ora parliamo dell'applicazione, pro, contro eccetera. Indossandoli così di primo impatto mi sembrano leggermente appiccicosi. La stessa cosa non vale per ogni singolo colore. Ce ne sono alcuni che sono meno appiccicosi di altri. In base al colore che scegliete hanno un profumo diverso e sono tutti incredibili. Sono profumi ovviamente molto dolci. C'è quello alla fragola, al lampone, alle caramelle. E quindi se non vi piacciono gli odori troppo dolci, non fanno per voi assolutamente. Non riuscite a sentire il profumo dopo che li avete applicati e dopo che sono a posto. Ma mentre li applicati lo sentite. Quindi se è una cosa che vi può dar fastidio, lasciare totalmente perdere e andare su qualcos'altro. Si stendono in modo abbastanza facile, abbastanza veloce. Alcuni colori sono un po' più difficili di altri, tipo i rossi, ma lo sappiamo che ci vuole un po' più di precisione. Adesso vedremo quanto reggeranno, nel senso che io viverò la mia vita in modo totalmente normale. Mangerò, berrò, parlerò tranquillamente e vediamo come arrivano a fine giornata. Se reggono, se c'è qualcosa di fastidioso, se... non lo so, vediamo tutti i pro e i contro. Rieccomi, ho appena finito di mangiare e il rossetto è esattamente come quando l'ho applicato. Non si è spostato di una virgola. Non so, magari può interessarvi. Ho mangiato la pasta al sugo e ho mangiato un panino con la mortadella. E poi ho bevuto il caffè. E è ancora assolutamente perfetto, quindi per adesso mi sta facendo un'ottima impressione. Ma ci vediamo più tardi e vediamo come arriva a fine giornata. Rieccomi, sono ufficialmente alle 6.20, quindi sono passate almeno 8 ore da quando ho su questo rossetto. Non l'ho assolutamente ritoccato, non l'ho riapplicato. Devo dire che onestamente non me lo aspettavo. Pensavo che fosse la lunga tenuta, ma non così tanto. Ho mangiato, ho bevuto, ho parlato e questo rossetto è ancora perfetto. Da stamattina alle 10.30 e questa cosa è assolutamente incredibile. All'inizio quando andate ad applicarli sono un po' appiccicosi, un po' scomodi. Sembra che siano un po' secchi, ma dopo un po' non li sentite assolutamente più. Non si trasferiscono in alcun modo, né sui tovaglioli, né non si stampano, non sbavano, restano letteralmente intatti. Secondo me questi rossetti valgono i soldi che spendete al 100%. Non me lo aspettavo sinceramente perché svocciandoli mi erano sembrati molto fastidiosi, molto appiccicosi, molto densi. E invece, come vi dicevo, dopo un po' non li sentite più. Se ancora non avete provato questi rossetti, ve li raccomando tantissimo, secondo me sono fantastici. Non so se la stessa cosa valga per tutti i colori, ma teoricamente la formulazione dovrebbe essere la stessa, quindi penso proprio di sì. La durata è assolutamente eccezionale, sono super confortevoli, veramente magnifici. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie infinite per la compagnia che mi avete fatto oggi e spero tanto di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!